Quest'anno vogliamo proporvi anche qualcosa di particolare, ossia un metodo che risponde al nome di Open Space nel quale potrete venire con i vostri progetti e con le vostre idee così da confrontarvi con altre persone e insieme andare a mescolare il tutto e renderlo ancora migliore. Certo con le vostre idee ma anche ricevendo spunti da parte nostra. Concretamente la cosa avrà luogo nel modo seguente. Prima della giornata avrete modo di sottoporre attraverso un formulario tutte le vostre idee. L'unica cosa che vi chiediamo è di inserirle nel contesto degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile legate all'agenda 2030 delle Nazioni Unite. Quando ci incontreremo poi a Locarno, per coloro che hanno scelto di fare questo metodo Open Space, andremo in un primo tempo a lavorare insieme per vedere cosa sono le idee che sono state sottoposte e scegliere le dieci che sono quelle che ci parleranno di più. Da queste dieci idee verranno poi creati dieci gruppi. Ogni gruppo avrà l'obiettivo in un primo tempo di creare una bozza di progetto. Dopo aver creato questa prima bozza andremo invece a proporvi cinque atelier diversi che si situano attorno alle questioni di competenze legate allo sviluppo sostenibile dove voi approfondirete questi temi così che poi potrete migliorare ancor più i vostri progetti. Il primo di questi atelier è la creatività come competenza. Poi abbiamo il pensare in modo sistemico, l'approccio a lungo termine, la partecipazione e la responsabilizzazione dei partecipanti ed infine la riflessione sui valori e l'orientamento dell'azione. Andando a partecipare a questi atelier potrete acquisire delle competenze, delle conoscenze che poi riporterete nei vostri gruppi rispettivi così da inserirle nella bozza che avete preparato e scuotere il tutto fortemente così che alla fine ne uscirà un progetto migliore perché avremo portato questi aspetti e perché avrete lavorato con le altre persone. Quello che per noi è importante è che alla fine di questa giornata ci siano veramente delle cose, dei progetti concreti che siano presentabili ma non ci fermeremo lì perché chiaramente sarebbe un gran peccato mettere tutta questa energia e fermarsi alla fine della giornata. L'intenzione dunque è quella di proporvi a seguire un accompagnamento così che questi progetti abbiano per così dire una possibilità più importante di venire realmente realizzati nelle vostre sedi. Questo è quello che noi vogliamo proporvi con il nome di Open Space. Speriamo dunque che abbiate queste idee, avete voglia di lavorare le vostre idee, i vostri progetti con altre persone così da renderli concreti e speriamo di vedervi numerosi. Chiaramente più saremo e più sarà interessante poter lavorare. A presto!